Sempre più spesso sento dire che acquistare immobili alle aste giudiziarie, specie nelle grandi città, non convenga più. Troppa gente, tanta concorrenza, prezzi quindi che schizzano oltre quelli di mercato impedirebbero di aggiudicarsi il giusto immobile e fare buoni affari. Ma è proprio vera questa cosa? Sì, è vera, ma è superabile. Ed in questo video vi diremo come. Ancora oggi è possibile fare ottimi acquisti alle aste immobiliari semplicemente cambiando punto di vista. Ed ecco due semplici consigli per iniziare questa evoluzione. Che tu sia un investitore immobiliare che ha voglia di fare uno o più operazioni di trading o che sia un altro tipo di investitore, quello che per esempio ha voglia di acquistare una casa dove andare a vivere per il resto della vita. Affidati sempre ad un avvocato esperto. Ed insieme, tramite l'esame della perizia, ma non solo di quella, andate ad individuare gli immobili per i quali siano stati riportati vincoli o limitazioni opponibili che, attenzione, alla fine non si riveleranno tali. In pratica vi sto dicendo che servendovi di un avvocato esperto dovrete andare a scovare quegli immobili per i quali in perizia siano state riportate per esempio trascrizioni di domande giudiziali che non hanno alcuna ragione d'essere o provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge che alla fine si rivelano inefficaci e quant'altro. Quelli di cui vi sto parlando sono immobili all'asta dove generalmente in qualsiasi città d'Italia voi siate, con ogni probabilità non troverete molti offerenti perché spaventati dalle limitazioni, dalle apparenti limitazioni riportate in perizia, ma che in realtà rappresentano dei veri e propri tesori. Il secondo consiglio è quello di espandere il raggio d'azione geografico delle vostre aste. Se cioè siete un investitore immobiliare navigato e strutturato o magari un investitore immobiliare illuminato dovrete iniziare a pensare di partecipare alle aste in quelle città dove il mercato giudiziario non è ancora entrato nella cultura dei normali cittadini in cerca di casa. Resterete sorpresi di vedere come molto poco frequentati siano in questi luoghi le pur numerose vendite all'asta. A vostro vantaggio gioca ormai il sistema delle vendite telematiche che vi consente di presentare un'offerta in qualsiasi tribunale d'Italia restando comodamente seduti alle vostre scrivanie. E se poi anche in questi casi vorrete invece ove possibile presentare un'offerta cartacea vi ricordo che in udienza potrete sempre mandare al vostro posto un avvocato mi raccomando solo un avvocato perché la legge non ammette altri rappresentanti che vi rappresenti appunto o alla luce del sole cioè spendendo tranquillamente il vostro nome o segretamente attraverso offerta per persona da nominare e che quindi sarà obbligato a rivelare il vostro nome solo nel caso in cui risultiate aggiudicatari dell'asta. Del resto agli imprenditori investitori più scettici ricordo che l'acquisto di un immobile in una qualsiasi città, zona centrale, con uno sconto del 60 e del 70 per cento a prescindere dalla specifica conoscenza vostra di quella zona è sempre rivendibile con un margine di guadagno più o meno buono. Come vedete continuare a fare affari alle aste immobiliari dipende solo da voi. Se ritenete utili i nostri video e se volete che continuiamo a farli iscrivetevi al canale, seguiteci sulla pagina di Facebook sul nostro profilo Instagram Studio Legale Iocca Chiappetta andate a visitare il nostro sito. Al prossimo video! Grazie a tutti.